La corsa contro il tempo è per riaprire il teatro comunale nel 2023 per festeggiare 150 anni dalla sua inaugurazione. L'obiettivo dichiarato è dunque avviare nel 2022 l'ultima tranche di lavori per riportare il teatro alla piena funzionalità. E' quanto emerge dall'ultima riunione al segretariato regionale che è la stazione appaltante del complesso restauro, il progetto esecutivo dell'ultima parte dei lavori è stato presentato. Il gruppo di progettazione ha illustrato il progetto redatto, incentrato sulle soluzioni individuate riguardanti i principali interventi ancora da eseguire, per il miglioramento sismico, per l'adeguamento degli impianti tecnologici e gli allestamenti scenotecnici e di finitura architettonica. L'effettiva consegna del progetto avverrà nelle prossime settimane, così partirà l'iter per le autorizzazioni. Entro il 2021 sarà possibile attivare la procedura di scelta del contraente per intraprendere i lavori nel corso del prossimo anno. Noi crediamo moltissimo al valore della squadra e pertanto adesso che la ricostruzione privata ci consente anche di poter distrarre in maniera positiva un po' di risorse per fare altro, collaboriamo col comune, col segretariato regionale per cercare di offrire un minimo di contributo laddove richiesto chiaramente, per poter accelerare i processi di ricostruzione. Appunto il teatro è uno di questi dove abbiamo messo a disposizione quattro nostri tecnici che collaborano alla progettazione dell'ultimo lotto affinché si contraggono i tempi per poter andare in appalta a fine anno e così utilizzare l'intero 2022 per i lavori e provare ad inaugurare il teatro nuovamente per il 150esimo della sua fondazione nel 2023 appunto. La restituzione del teatro oltre a fornire un ulteriore spazio di cultura significa anche ridare alla città un luogo fortemente identitario. Molto significativa è stata la partecipazione dell'USDRA per accelerare sul recupero del patrimonio culturale e non solo perché una buona accelerazione, conferma il titolare dell'USDRA Salvo Provenzano, si è avuta anche nei processi per quanto riguarda le scuole. Frendo un po' di contributo, lavorando in maniera sinergica con le amministrazioni cerchiamo di accelerare alcuni processi, ad esempio quello della verifica dei progetti delle scuole. Il Comune dell'Aquila, essendo occupato in molti ambiti, probabilmente soffriva un po' anche della mancanza di tecnici specializzati nella verifica dei progetti. Siccome noi lo facciamo abitualmente per i progetti di ricostruzione privata, non vedo perché non dovevamo farlo anche per la ricostruzione delle scuole e quindi abbiamo offerto una mano per la verifica dei progetti delle scuole e a breve verranno appaltate tre di esse. Anzi, mi pare che una sia già appaltata e a breve partiranno i lavori.